Adrenalina, ansia e tanta emozione. Finalmente è arrivato il grande giorno. I capi disegnati prenderanno vita sulla passerella di Next Generation. Sto mettendo del lucido per far risultare il latex più lucido durante la sfilata. Tra lo sport, la couture, uno stile che è riconoscibile, che fa parte di un modo di pensare, un modo di vestire e un modo di essere. Stiamo decidendo le ultime cose, gli ultimi cambiamenti in corso. Una forza di entusiasmo. Lei ha affronteggiato la realtà dovendo cambiare qualcosa, ma rimanendo se stessa, rimanendo nel suo tema. Cominciamo già a portare sui capi. Danza a voi? Bene. Tutte qua e mancano le leggi. È delirante. Ma speriamo tutto bene. Sfila Imar di Daisy Cottini. Piena di creatività. Tante idee, un bel senso del colore. E sicuramente una creatività diffusa un po' da per punto, con una mano molto femminile, che si sente, giocosa. Anche una leggerezza che nella moda ci vuole. Coloratissima e futuristica, direi. Questi splash di colore, che secondo me rappresentano quelle che è lei dentro e anche fuori come ragazza. Molto belle le fantasie, l'accostamento dei colori. Ha giocato tantissimo con queste silhouette slim, magari sopra, invece con delle gonne ampie fatte di pelliccia, però che si accordavano tantissimo con i colori, il pastello, queste fantasie molto giovani, molto disco, molto allegri e divertenti. E' stato bellissimo. Vorrei rivederla immediatamente per capire cosa è successo, ma è stato un filmine, è stato bellissimo.